Una bella partita, giocare col Saronno è sempre difficile, sono una grande squadra, secondo me possono fare molto bene, però anche noi possiamo dire la nostra quest'anno. Da tanto combattuta, il pareggio secondo me è il risultato giusto, due belle squadre che hanno giocato a viso aperto e il pareggio è il risultato quello giusto.